Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo. Due persone, marito e moglie, sono decedute oggi pomeriggio in un terribile incidente stradale tra il comune di Este e quello di Santa Caterina, lungo la variante della strada regionale 10 Padana Inferiore. Una macchina si è scontrata contro il camion che nell'impatto si è girato di traverso, bloccando completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Le vittime sono marito e moglie di 79 e 76 anni, residenti in località carceri, conducente e passeggero della Dacia Sandero che viaggiava in direzione di Santa Caterina d'Este. L'impatto contro un camion della ditta Grigolindi, nervese della battaglia che si occupa di massetti per l'edilizia e che stava trasportando materiale edile. Il mezzo, pesante invece, viaggiava in direzione Monselice. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza per la rimozione del camion e dell'auto. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i carabinieri di Este e la polizia stradale per i rilievi e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile schianto. L'impatto ha completamente distrutto la parte anteriore dell'auto che si è trasformata in una gabbia mortale per i due coniugi a bordo che sono morti sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal punto in cui a fine gennaio era stato reciso a colpi di flessibile un velox.